La chimera torna attraverso una duplice veste, una veste tecnologica e una veste invece materica. L'idea è quella di superare un po' la questione del ritorno della chimera, restituendo però alla città e ai suoi visitatori la conoscenza del pezzo attraverso le sue storie, i racconti, i miti ad essere collegati. Da un lato una chimera virtuale e 3D, dall'altro una reale e in gesso. Arezzo celebra così il grande bronzo etrusco con una sala all'interno del Museo Archeologico Mecenate, interamente dedicata al simbolo della città. Grazie a una collaborazione tra noi, Polo Museale della Toscana e anche con fondi del Ministero e il Rotary Club di Arezzo che a sua volta ha attivato altre collaborazioni, la celebriamo, la ricordiamo attraverso la presentazione di una novità tecnologica, un ologramma molto aggiornato anche dal punto di vista informatico o più che altro tecnologico perché si basa su una scansione a laser scanner molto molto accurata per dare una restituzione scientifica ma anche in qualche maniera accattivante attraverso le nuove tecnologie di un oggetto che comunque è presente anche attraverso questa bella copia in gesso degli anni 30 e 900 eseguita, non è un calco, è proprio eseguita direttamente da uno scultore che poi è servita a sua volta per le riproduzioni in bronzo delle fontane che gli arettini conoscono. La chimera venne ritrovata il 15 novembre 1553 a 6 metri di profondità mentre si stava scavando per costruire il baluardo di San Laurentino. Era rotta con alcune parti mancanti, venne poi portata a Firenze da Cosimo de' Medici ma a quasi 500 anni di distanza da quel ritrovamento non si è mai interrotto il legame della statua bronzea con la città di Arezzo. È una storia che in qualche modo ha privato la città di questa grandissima opera a cui la città però è sempre rimasta legata e a cui ha attribuito un fortissimo valore identitario. Ecco la comunità chiaramente attribuisce a questo reperto che è più che un reperto, è un simbolo, una grande valenza. Grazie. Grazie.